Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati oggi da vostro MrVolpix97, ben ritrovati oggi qui su FIFA14 per l'appunto, oggi siamo su Stagioni e siamo qui con il Manchester United per l'appunto per cercare una squadra con il numero di stelle e divisioni simili per l'appunto e fatemi sapere per l'appunto nei commenti qui sotto tramite Beppo Legiorno in su per l'appunto e se volete altri video così sempre su Stagioni va bene dai, schippa però, dai ovviamente avrete tutto tagliato in un video di massimo 10 minuti eh, questo mi deve far vedere la partita schippi per favore vedete, questo è un esempio, è uno di quelli che mi sta veramente sul cazzo vai, continuiamo inizia dai, figlio di puttana eh, guarda per la parola ma non voleva iniziare perché mi fa ruidare il culo su Stagioni quello che ho notato è che giocano molto diversamente di Ultimate Team e sono veramente bravi a giocare, ci fanno passare la palla regolarmente non fanno i soliti bug che si fanno per le divisioni no 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 no, bastardo me ne sono accorto dopo eh vabbè, meno male che l'hai persa e schiazzi dai, prendi sta cazzo di palla no, bravo, bravissimo no, perché hai fatto così? meno male che ha sbagliato vai Tira a giro Porca puttana Anche se Ronaldo non mi interessa Gazzite un mazzo Vai così La palla è mia Vabbè lo sto facendo a posto Non faccio mai le rovesciate Le scivolate scusate Dai che l'ho visto Dai che l'ho visto Bellissimo vai così Vampersi Vai Ok Bello pato di filtrante Che si infilia tra le gambe del giocatore Subito così Ho provato quello per fare il tira a giro Non credo come l'abbia fatto Comunque non me ne sono accorto Comunque ragazzi 1 a 0 10 un minuto Vediamo se ci possiamo fare qualche altro Vabbè già roseca Non devi roseccare a me come io Bravo così Gioca tranquillo Vuoi fare questo? Vuoi fare questo? Vuoi fare questo? Così ti faccio un po' Grotere il culo Vedete la palla se ne va qua Hai capito tu? Vai così Bello di papà ragazzi Mi sono segnato A fare un po' Le schelle Vediamo No 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 Ma ammazza come si è girato E vabbè porca puttana Ma per Io non ho fatto uscire il portiere Cioè il portiere si fa uscire Tenendo premuto Y Vediamo se Riesco a farla passare qua Vai Vediamo Vai 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 No No Porca puttana Uuuu Ammazza quanto cazzo Correre un alto Porca puttana Porca puttana No Bravo De Gea O De Gea Come cazzo Spieghiamo Vai Bello No aspetta Aspetta Fermate 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 Vai No Non la perdere Porca puttana Che cazzo De azione Che sto facendo Che skill Che sto facendo Tra l'altro Che cazzo Traversa Vai Ma ammazza Ho un po' di culo Anche a me Ogni tanto Di deviazione E però Una cosa che ho notato Che tutti si prendono Sto cazzo Di Real Madrid O Barcellona A pecchiare un alto Cioè Ma porca puttana Non sapete giocare Con squadre Eh vabbè Che cazzo Ho voluto fare Manque lo so Ho premuto L-team Vabbè che fa F*** Cazzo Ne so Vai Eh vabbè Che cazzo E sta cazzo De mostrare La tantalogia Vabbè Me l'ha ammazzato Ma comunque No no Si è ralzato Si è ralzato Si è ralzato No Figlio di puttana Figlio di puttana Sei un figlio di puttana Abito Vento Sono stronzo In contro il piede Non mi devi fermare Al petro di merda Mi vattene a fanculo Figlio di puttana Vai No No Ma cazzo Mi è passato Perché Perché mi parano Sti golle Mi hai fatto No Perché ti taggo Bello Di papà Parte 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 Quando abbiamo più Noggio Vai 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 Puttana Però Se vai Se vai a fare Un passaggio Che è Bravissimo Allora Adesso Se io faccio Così Giusto Lui è Giammata Vai Vai No Io Porco Che cazzo Lo ti avrei Sopreso Porca Puttana Dai Non ho colpito Naga Tanto forte Ho appena sperato X Vediamo Sto cazzo Di calcio Tancolo Mamma V Che l'ho vista Dentro Paggio Amato Lo so che Stai morendo Ma Ce la puoi fare Vai Eh No Non è possibile Non è possibile Che me lo so mangiato Di nuovo Bravo Stronzo Vattene Da quella parte C'è questo Pensavo Che Vai C'è Tanto Con un numero Dai Non te lo mangiare Questa volta Dai Eh vabbè Ma un minchia Però non l'ho Prendeto C'è io Premo pure Il tasto Per No Dai 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 che l'hai visto Vai Vai Dai Dai però Oh Stapalla Non vuole entrare Dai Vediamo di riuscire a fare L'ultima azione Vai Ti prego Non fischiarmi fuori gioco Dai Dio Perché ho tirato subito Non c'era nessuno Eh vabbè Porca puttana Dio santissimo È possibile Che devo Possermi pareggiare Una partita Ammazzo Che cazzo Di fatica Guarda che storico Solo uno ne ho vinta Tre perse Ehm Due partite rimaste Per l'appunto Se ne vengiamo E un'altra Per l'appunto Passiamo in divisione 9 Quindi facciamo E questo è un aspito E riscaliamo la divisione Dai E su stagioni Ah bene ragazzi E vabbè Lo so che ho cominciato il 15 Il FIFA 15 Ma non mi interessa più di tanto Perché il mio PC non lo supporta E per l'appunto Non ne ho la possibilità Quindi spero che il video vi sia venuto Per l'appunto E al prossimo video Bella E a tutti e E a tutti i